Ciao e benvenuto da Matteo Bricchi. In questo tutorial vedremo come controllare il colore in Photoshop e come utilizzarlo per dare vita ad effetti creativi. Se vuoi imparare il fotoritocco in modo facile e divertente, dai un occhio al mio corso completo in DVD sul sito matteobricchi.com. Ora disponibile anche in edizione speciale, con moltissimi contenuti extra. In questo tutorial vedremo come applicare degli effetti colore a questa immagine utilizzando una regolazione curve. Generalmente usiamo le curve per modificare la luminosità o il contrasto dell'immagine, ad esempio schiarendo l'intera immagine alzando la curva nel centro o applicando del contrasto scurendo le ombre, quindi abbassando la curva, e schiarendo le alte luci, quindi alzandola in questa zona. Possiamo però utilizzare una regolazione curve anche per applicare modifiche al colore. Qua in alto, da RGB, possiamo spostarci a lavorare su uno dei singoli canali colore, ad esempio il rosso. In questo modo, alterando la curva, andiamo ad alterare il colore nella fotografia e possiamo sempre farlo basandoci sui livelli di luminosità. Prima di applicare modifiche a questa foto, vediamo velocemente come funziona il colore in Photoshop o in generale nel digitale. Abbiamo i tre colori principali, quindi il rosso, il verde e il blu, che propriamente mescolati permettono al nostro monitor di rappresentare qualunque colore, o diciamo un gran numero di colori. Questi colori sono utilizzati in modo additivo. Il nostro monitor è buio o è nero quando è completamente spento e vengono aggiunti colori primari, quindi rosso, verde e blu, in quantità variabile per creare il colore. Nel modo opposto, invece, funziona la stampa. Vediamo il giallo, il ciano e il magenta, che sono appunto i colori opposti a quelli utilizzati da un monitor. Sulla stampa, infatti, partiamo dal bianco della carta e andiamo a sottrarre certe frequenze di luce, certi colori, per ottenere la tonalità restante. Questo cosa significa? Che in un monitor non abbiamo il colore giallo. Il giallo è dato dal rosso e il verde sommati insieme. Quindi come ottenere giallo? Sottraendo blu. Ipotizziamo di partire dal bianco, che è composto da rosso, verde e blu insieme. Se andiamo a sottrarre del blu, otteniamo il giallo. Questo ci servirà per capire come utilizzare le curve a nostro piacimento per applicare modifiche di colore. Ancora un veloce esempio di teoria. Applico a questa immagine una regolazione curve e mi sposto sul canale rosso. Provando ad alzare il punto centrale del canale, tutta l'immagine prende una tonalità rossa. Fatemi spostare le curve al di sotto di queste grafiche in modo da riuscire a vedere il colore originale. In questo caso abbiamo una sfumatura che va dal nero al bianco come riferimento e le modifiche apportate dalla curva. Abbiamo applicato quindi del rosso sull'intera fascia tonale. Torniamo sul rosso. Cosa succede se applichiamo una curva ad S? In questo modo stiamo abbassando il rosso sulle ombre. Cosa significa abbassare il rosso? Torniamo un attimo a questo esempio. Abbassare il rosso significa lasciare maggior presenza al verde e al blu che insieme danno il ciano. Quindi vediamo che nella zona delle ombre abbiamo un colore ciano. Al contrario, nella zona delle alte luci stiamo alzando la curva, quindi stiamo schiarendo il canale rosso, aggiungendo del colore rosso. In questo modo resetto la curva. Un ulteriore esempio, canale blu. L'opposto del blu o il complementare del blu è il giallo. Quindi sottraggo del blu, do maggior priorità a rosso e verde che insieme danno una tonalità gialla. Stessa cosa di prima, possiamo modificare separatamente la zona delle ombre dalla zona delle alte luci. Aggiungiamo del giallo, o meglio, togliamo blu, quindi diamo maggior priorità al giallo nelle ombre, aggiungiamo del blu o dell'azzurro nelle alte luci. Ok, ora che abbiamo velocemente capito la teoria del colore, torniamo alla nostra fotografia principale e vediamo come sfruttare le curve per applicare degli effetti creativi. Il primo effetto che vediamo è un effetto colore di cross processing, derivato da una vecchia tecnica utilizzata sulle fotografie in pellicola. Per ottenere quel classico effetto, ci spostiamo sulla curva rossa e aggiungiamo una S di contrasto, ci spostiamo sulla curva verde e facciamo la stessa cosa. Quindi cosa succede? Togliamo un po' del verde nelle ombre, quindi diamo una tonalità violacea, mentre aggiungiamo un po' di verde sulle alte luci. Ci spostiamo in ultimo sul blu e appiattiamo leggermente la curva del blu. Proviamo a capire cosa succede anche in questo caso. Stiamo schiarendo in questo caso le ombre del blu, dando quindi una tonalità blu-astra, lo vediamo nelle parti più scure dell'immagine. Al contrario, stiamo abbassando rispetto alla linea originale la curva del blu nelle alte luci. Togliere blu significa dare giallo, il suo colore complementare. Infatti vediamo la parte di cielo, chiara, molto giallognola. Diamo un nome a questo livello e lo chiamiamo Cross Process. Una volta confermato l'effetto, possiamo vedere le tre curve colore, come sono state modificate. Abbiamo sempre la possibilità sull'RGB, quindi sulla luminosità, di effettuare ulteriori modifiche sulla luminosità generale. Facciamo però attenzione perché in una classica immagine RGB, colore e luminosità sono collegate. Applicare una S sia al verde che al rosso, in questo modo, significa comunque aumentare il contrasto nell'immagine. Proviamo a spegnere ed accendere l'effetto e vediamo come, oltre al colore, abbiamo cambiato sicuramente anche la tonalità di luce. In questo caso, l'effetto direi che è assolutamente idoneo e l'aumento di contrasto è piacevole. Se per qualunque motivo, invece, abbiamo modificato il colore con le curve, ma non ci piace il cambio di contrasto, possiamo utilizzare il metodo di fusione colore. Il metodo di fusione rappresenta il modo in cui questo livello interagisce con il livello sottostante. In questo modo, Photoshop utilizza le modifiche di colore applicate da queste curve, ma mantiene i livelli di luminosità presenti nell'immagine originale. Con il CTRL-Z posso annullare o ripetere l'operazione e vediamo l'enorme differenza che si viene a creare. Ripeto, per questa immagine l'effetto con il metodo di fusione colore, quindi senza contrasto, risulta abbastanza piatto e lo lascerei tranquillamente sul normale. Ok, passiamo ora al prossimo effetto di colore anticato che otterremo sempre con l'utilizzo di curve. Spegniamo questo effetto, ma possiamo tranquillamente lasciarlo tra i livelli, ed aggiungiamo una nuova regolazione curve. Chiamiamola subito Anticato. Per ottenere questo effetto andiamo ad applicare una curva ad S sul canale verde, andiamo ad aumentare la luminosità nel canale rosso, quindi aggiungendo tonalità rossa, e facciamo l'opposto nel canale blu, quindi, sottraendo blu, aggiungiamo del giallo. In questo modo otteniamo un effetto di colori anticati. Avendo creato le regolazioni sui livelli, abbiamo la possibilità di mantenere in uno stesso file Photoshop diversi effetti colore, e possiamo sempre selezionarne uno piuttosto che l'altro. Se vogliamo mantenere tutti i livelli con gli effetti creati, salveremo il file in formato Photoshop, quindi in formato PSD. se invece vogliamo un singolo effetto in formato JPEG per poter essere pubblicato ad esempio su un social network, utilizzeremo la funzione salva con nome andando a scegliere il formato JPEG. Nel prossimo tutorial vedremo come applicare un bordo creativo a questa immagine.